U.A.V. alleato in zona, i nemici lanciano un esplosivo aereo, prendiamo bravo, il nemico cattura Charlie, ci siamo portati in testa, mi sento un esplosivo lanciato, pallasma attivato, sto ricaricando, obiettivo Charlie compromesso, ricatturatelo, U.A.V. alleato online, stiamo perdendo Echo, stiamo perdendo Delta, raggiungo questa zona, stiamo prendendo Alpha, stiamo prendendo bravo, prendiamo Charlie, il nostro U.A.V. è in sorvolo, drone bomba alleato attivato, controlliamo bravo, Charlie è sicuro, U.A.V. nemico in volo, il nemico cattura bravo, abbiamo perso Charlie, prendiamo Alpha, i nemici hanno lanciato un missile Charlie Cruz, prendiamo Delta, il nemico guadagna terreno, reagite! Charlie Cruz, stiamo prendendo Alpha, stiamo prendendo Alpha!